Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e nel video di oggi ho deciso di comprare tutte quante le creme spalmabili disponibili nel mercato e nei supermercati per mescolarli insieme e farne venire fuori un Frankenstein di creme al cioccolato Sì lo so siete tutti sconcertati e sconvolti, ma probabilmente è perché non siete mai stati iscritti al mio canale e quindi fatelo perché Dio solo sa cosa potrebbe succedere nel prossimo video Perché manco io lo so, cosa potrebbe succedere? Ma che cazzo ne so, non so nemmeno se domani sono ancora in moto, dai per favore non siamo a cincischiare Comunque sono passato in ben due supermercati, ben due raga, non tre, due, per comprare tutte quante le creme spalmabili che erano disponibili All'inizio volevo fare solamente quelle tipo alla nocciola, poi mi sono detto ma perché limitarsi? Perché non fare un bel mix, un bel purpurì di cose e provare a sentire cosa ne verrà fuori? Perché sì, l'assaggerò Ho infatti qui davanti a me tutto quanto il ben di Dio di grassi insaturi, grassi insaturi, se pensate che io sappia veramente cosa vuol dire grassi insaturi, grazie Qui ho un bel ciotolon e ogni cosa felosa, se dico ancora felosa, che cacchio vuol dire felosa? Ma cosa vuol dire feloso? Ma di giuro non so cosa vuol dire mai da oggi che dico feloso, ma secondo me è un problema mentale Ho paura, soprattutto per voi Allora, prenderemo una dose equa di ognuna e la metteremo qua dentro, poi la testeremo, la snifferemo e avremo creato l'ufficiale crema baciones O crema, crema diciamo, vabbè perché chissà che cacchio verrà fuori, non fatelo a casa Partiamo con la crema Lind fondente Raga, raga cioccolosa, penso che farò così per ogni crema eh, attenzione La consistenza è questa, molto denza, tiè vai dentro, abbiamo la prima rata raga, abbiamo la prima rata L'assaggio E' buona Preparatevi a me che cambia opinione in 3 secondi questa roba Oh no, questo fazzoletto sembra che ci ha fatto la cacca dentro Buona questa caccone Continuando con la signora Lind, abbiamo anche la versione alle nocciole Prima ciò, con poi nocciole, ovviamente Perfetta, è identica all'altra, sicuramente Verrà proprio un turbinio di marron, assaggiamo anche questa Sicuramente è più buona dell'altra, questa è una nocciole più buona Questa marca che si chiama ogni giorno Ora, crema sparmabile alle nocciole ogni giorno Lo decreterò io se questa roba qua mi vale la pena di averla ogni giorno Come ti permetti a farti chiamare così? Intanto guarda la qualità Deplorevole, deplorevole, deplorevole Magari questi qua di ogni giorno, tipo, sono miei fan Ma sì, ma chi mi cacca? No raga, è BS, se siete ogni giorno vi voglio bene Cioè, sto facendo il pagliaccio, ma tanto per... Ok, questa è la consistenza E la mettiamo qua Ma sapete che non è male? Sì, con riso Senza lattosio Di riso scotti Che sono super curiosi di assaggiare Perché a quanto pare è senza olio di palma E con le proteine del latte Però so se vi ricordate ma C'era stato questo trend dove l'olio di palma Lo diavano tutti quanti E Nutella era l'unica che se la tirava Perché aveva l'olio di palma più bello di tutti Ah, geni Bello, grumoso È bello il suo acqua rosa Questa roba fa schifo Questa roba è disgustosa Ma è come in questa occasione L'aspetto corrispondeva al gusto Avete presente quando alla Befana I vostri cugini pro zii Roba in part... Cioè, proprio alla lontana Vi regalavano la calza della Befana Ma quella proprio sottomarca Quella che non voleva nessuno Quella che era rimasta al sole per tipo otto mesi Ecco, è lei È la vostra calza della Befana Stata al sole per otto mesi Che mi hanno regalato i vostri cugini Che non vi volevano tanto bene Ora vorrei provare questa Weetors Che ogni volta che leggo il nome Weetors Weetors Mi viene da canticchiare così Perché lo dice sempre in mia sala Giulia Che ha il 20% cioccolato fondente Crema spalmabile Wow, com'è bella Bella nera Secondo me non è male È molto, molto, molto simile All'idea di sciogliere Una barretta di cioccolato fondente Ma raga, che bello Che da vedere qua la situa Ora cambiamo la musica Cambiamo il ritmo Perché arriva Calvet peanut butter Ossia il burro di noccioline Che è una cosa che va moltissimo Negli Stati Uniti Da noi non è che vada tantissimo Mi sa Bella, dura Vai dentro, ti prego Oh no Pro, 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 secco Ma che cacchio ho fatto? È tornato il nostro amico ogni giorno Con due creme spalmabili Vale e ogni giorno Che si contendono Siamo proprio gemellini Guardate che bella che è da vedere Io ho sempre odiato queste creme Perché trovo che si mixa Vabbè no, eh Vabbè no, non permetterti mai più Mamma mia, non ho esagerato un po' Ma se che me frega, ti accia pochi Buona ma biancona però Alla fine di sto video vomito sicuro Mamma mia, io mi chiedo cosa me ne farò Poi di tutte queste creme al cioccolato Le mangerò Non dovrei Però forse lo farò Sapete che io non compro mai la Nutella Perché ogni volta dico Mi mangerò assolutamente un po' Mi durerà tipo sette mesi E poi dopo sette ore è già finita Voglio provare infatti Con l'albacio Perché è questa nuova crema Che secondo me è uscita da poco Ed è letteralmente l'interno dei baci Credo Non lo so, me lo sono deciso io Però è un bel barattolino C'è anche un messaggio C'è scritto che la vera felicità deriva dai soldi Nooo La vera felicità deriva dall'entusiasmo di creare cose nuove È vero Bella, golosa Raga ma ci sono le consistenze dentro Ma possiamo fare una volta Un'edizione speciale dei baci perugina Però sono baciones Inseriamo ora Gli amicotti pan di stelle Come hanno fatto una cremetta Che ha il suo perché Però ha il suo perché A cucchiaiate Nel pane secondo me Perde la sua A me piace È come quando mangia lontello con i grissini Intingendo direttamente i grissini dentro il vasetto E ti restano i pezzettini dentro E quindi quando ci torni il giorno dopo Trovi la surprise Che schifo Continuiamo con per migotti Nocciola 30% Nocciole Ed è bianca Che bella Ecco non è male Molto buona Anzi Si sente moltissimo la nocciola Bravi Muccarella Fa una crema spalmabile Gusto Muc Credo Sì Non lo so Non me ne mi dà A me non me ne prego Guarda C'è la consistenza È super 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 liscia Mamma mia Allora è buona Ma penso che tanto così E ci restate secchi L'interno Di tutti quanti quei dolci Che dentro hanno il caramello Secondo me questo è caramello Continuiamo poi con la crema nobi Onestamente La butto dentro senza tante remore A me non dispiace L'ho comprata varie volte Devo dire la verità L'ho comprata varie volte E non me ne sono mai pentito Ok ragazzi Questo qua è il risultato Dove siamo arrivati fino adesso Ho un po' paura Perché quello che si sente più di tutti È un burro di noccioline Incredibile Cioè nonostante tutto quanto L'unico burro di noccioline È quello che si sente di più di tutti Ok ma diamoci una mossa Abbiamo qua il soia 100% vegetale Perché si staccano tutti Così sti robi La inserisco nel nostro mix Sarà così Una rata giusta È una versione meno dolce da Nutella Secondo me E in più è tutto vegetale Cioè senza latte E sto per inserire le ultime tre creme Una alcenero Una withers E la magica Nutella Che secondo me Non ha bisogno di presentazione Non ha bisogno di niente Cioè proprio Se non ci fosse lei La nostra vita sarebbe molto più triste Di quella che Il covid ci ha riservato Non posso più dire cavolate Basta Secondo me lo zucchero Mi sta andando da testa Ok Questa withers Che gusto è La fondente Raga ma Cosa me ne farò mai Tutta sta crema qua La Frankenstein cream Vai dentro qua Amiga Sentiamo Non so se mi piace Non so se mi fa schifo La teniamo in forse Sa tipo di cioccolata calda sciolta Ormai raga Dopo 150 creme Non so più cosa dire Vi dico la verità Siamo arrivati all'ultima crema Ciocco cream Alce nero Questo qua non l'avevo mai sentita Alce nero Cosa che fa nella sua vita Fa sui giuppari monti Con un alce Secondo me ho finito i cucchiai Usaremo una frusta Wow Bellix E dichiaro Ufficialmente Concluso Il nostro mix iniziale Un casino Un disastro Non vedo no di mescolarlo Cioè guarda che bello Che è da vedere Dentro il vaso Questo mix di colori È stupendo Allora l'odore Non sa di niente adesso Sa di nocciole Ma non è un odore specifico Potrebbe essere qualsiasi cosa Onestamente E siete pronti Mixa tutto Wow raga Che bello Ma il mix di colori È così ASMR È stupenda la situazione Vi giuro Devo mescolare ben bene Perché non voglio Che niente resti A se stante Wow Perché si sta raddensando Così tanto Si sta raddensando tantissimo Questa crema Oh no No raga Per farmi capire Quanto è densa Ma perché si sta raddensando Così tanto Ma c'è vedete Che più la mixo Più è dura È stranissimo Qua si è pure rotto il coso Sembra proprio gelatone Perché sta facendo Sto giro Perché questo Cambio di eventi Sembra di gelatolenta Tipo mia nonna Quando girava la polenta È stranissima La consistenza Sapete cosa credo che sia Raga Ce le avete viste le creme prima Adesso è un malopon Adesso è un malopon Direi che sufficientemente mescolata E sa solo di burro e di nocciolini Io sono sotto shock Come cacchio fa sapere solo di burro e di noccioline Che tipo È la cosa che ce l'ho messa a meno Perché ce n'è solamente una Sa solo di burro e di noccioline Qui ce n'è per un bastimento Ce n'è per Anche per i vicini di casa Cioè ma quanto densa È che non viene neanche giù Non viene nemmeno giù Ma quanto è densa sta roba Sono incredulo vi giuro Vai giù amica Dai vai giù Non essere timidotta Devi farcela È il momento tuo Oddio santissimo Vai dentro te prego Questa roba non vuole andare via Fattene via in questa roba Madonna ma riesci a capire Quando è il momento per andare È quel momento per venire Cioè non è così difficile E dopo moltissimi barattoli E tantissimi assaggi E tantissima nausea Siamo arrivati definitivamente Alla nostra crema mix Di tutte quante le creme disponibili Immaginabili Nei supermercati Il sapore medio Che questi brand Pensano che possa piacere Alle persone E vi giuro Non vedo l'ora di assaggiarlo Ora invece è tornata a essere Una crema Raga una crema Letteralmente una cremetta Prima sembra addirittura gelato Da quanto era diventata strana Non l'ho ancora assaggiato Quindi sono pronto Per fare il test Raga sta male Cosa abbiamo creato Ma è buonissima È perfetta È perfetta Perché ci sono dei pezzi Croccantini dentro Che deve essere il mix Delle noccioline Della crema Baci perugina E della crema pan di stelle Che gli danno Quella consistenza Un po' sgranucchiosa Ma tutto il resto È la perfetta combinazione Tra dolce e salato Nocciole E cioccolato È magnifica L'unica mia preoccupazione È il fatto che Siccome è stata fatta Con 150 creme diverse Con scalenze completamente diverse Se questa roba Non sarà commestibile Per molto tempo O almeno Non sarei sicuro Di poter mangiare A morire Per poco tempo Ma è magnifica Cioè Magnifica Magnifica Io dichiaro ufficialmente Che la nostra Cernobil cream È approvata Era sottoscritto E mi è piaciuto Un sacco provare L'esperienza Di assaggiare Tutte queste creme diverse E questo è tutto ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mettete un pollice Su questo So che ne devo fare altri Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al mio canale Lasciate un nuovo video Nel martedì Le 15 Di sabato Alle 10 e 30 E nel tanto Giovedì Ma questo non sa nessuno Mi mando Un bacio Nascarante E al prossimo video Ciao Ciao